Quando c'è un caldo, c'è un matto, un fornare piavora da via. Facciamo pareti, genera e ramoschiello, e supe da pezzi non utilizziamo. Dalla scannata di prima cestilla, no mozzo, no piezzi piavamo. E mocca al forno lo vettava, dopo stia sopra la palatela. Alla pasta, soltava, faccia pipa chic, e poca un'enda era in sconnessa, per cercare come se fosse un luogo. Era quello il momento della palatela un mese, perché il calore era grande di te. E il fornare deva vintare a sconnessa. A presto! 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 Grazie a tutti